Se tu vuoi far passare qualsiasi emozione o stato, il primo passo è che lo abbracci, che dici sì, che lo senti. Io avevo una storia di malattia, come tu sai, e ho trovato che l'unico modo per far abbassare dolori fisici è la stessa cosa. Devi andare verso il dolore e dire sì, andare dentro. Questo è il primo passo. Così, sin che mi incazzo, viene, sale e se ne va. Così, sin che mi incazzo, viene, sale e se ne va.